Benvenuto, prenditi un momento per controllare le tue sensazioni. Se sei preoccupato o stressato, usa la respirazione e lo sforzo nell'eseguire le pose per rilassarti. Iniziamo con la respirazione cosciente. Inspira alzando le braccia, respiri profondi con la pancia. Senti i piedi piantati per terra e allunga la schiena, sempre di più. Ora, allungo laterale. Alza le braccia oltre la testa e allungati verso un dato, allungando entrambi i lati del corpo. Altro lato. Senti allungarsi i fianchi, la schiena, le braccia e i muscoli obliqui. Non devi ruotare i corpi in avanti. Respira nell'allungamento per creare spazio tra vertebre e costone. Tieni gli addominali contratti, le cosce tese, le spalle basse e la schiena neutra, né piegata né arguata. Posizione della serie, un catasano. Siediti sui talloni tenendo la schiena dritta. Alza le braccia, mantenendo il torace sollevato. Schiena dritta, non arguata. Torsione 6 Siediti nella posizione della serie. Espira e ruota all'altro tenendo unite le mani. Tieni le ginocchia vicine. Non lasciare che un'anca indietreggi rispetto all'altro. Torsione 6 Altro lato. Respira nell'allungamento. Senti la torsione della schiena e il lavoro delle gambe. Gambe divaricate per lo stretch gambe. Allunga la schiena piegandoti avanti. Senti un filo invisibile che tira dalla punta della testa. Passiamo allo squat shiba. Espira per scendere. Inspira per salire. Tira i gomiti in basso ai lati per aprire il torace. E cerca di unire le scapole. Passa a un affondo per il guerriero 2. Guarda oltre le punte delle dita davanti. Rilassa il viso, la mascella e le spalle. Torniamo allo stretch gambe. Rilassa le scapole e lascia andare i gomiti. Tieni gli addominali contratti, spingi indietro i femori e allungati dai fianchi. Senti l'allungamento dei tendini del ginocchio. Squat shiba. Espira profondamente in posizione. Senti il lavoro delle gambe e apri il torace. Addominali e gambe sono attive. Tieni la schiera ben dritta. Guerriero 2. Trevi sul tallone posteriore. Distribuisci il peso su entrambe le gambe. Preparati per il triangolo esteso. Allungati in avanti e fai spostare indietro i fianchi. Posiziona il gomito sulla coscia e allunga l'altro braccio verso l'alto. Dall'altra parte ora. Senti l'allungamento di braccia, torace, costole, schiena e gamba. Non ruotare in avanti. Continua ad allungarti fino all'alto. Ora la posizione dell'albero. Ora la posizione dell'albero. Ora la posizione dell'albero. Concentrati sul tuo legame con la terra. Senti come ti apri sempre lì. Namaste. ritrova la sensazione di legame con la terra in qualunque momento del giorno concentrandoti sul respiro.